Quando dicono il lavoro dura 1 ora e 38 da quando prende il voto? Ma per molti coppina l'idea non lo stava Per qualsiasi buco Vabbè non lo è perché non è uno scalo Però a teoria loro non escono le porte Guarda i bagagli La ,, attrazione... Qu ставita? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una volta solo forse mi è capitato di prendere l'altro Grazie a tutti 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 Milano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti